Il volo, questo era l'hotel Megapocchia is frozen Good morning to everybody here from the room 206, 7 o'clock in the morning, minus 5, you from the room, this is the fiole Seconda parte del video, eccoci qua, buongiorno, sono 7 da mattina, meno 5 gradi, la montagna di fronte bella impappata di neve e mo se famo una bella doccia, ci famo un bel, andiamo giù a fare colazione, quindi state belli impappati, iscrivetevi al canale, accendete la campanella per notifiche e cominciamo qua, la seconda parte del video Ok, guarda l'angolo Dai siamo pronti per la luce Shower done, now we're going to do breakfast, let's go Ascensore Ciao Piano P Qui some info about the massage 1 euro, 20 cents per 1 minute, 2 puli repu per minute Hello, Marge, room 206 Oh yeah, thank you I'll take some pancakes, fresh orange juice, cappuccino, marmellata al bigocche, some nuts pots, poi c'avemo some omeletto with bacon, brownies, and one more cappuccino ỉ de 00us, ehb Uttocco Mi This is caernate timestamp Un un bel caffè, ora prendiamo il cappuccino allora ragazzi, è quasi 9.30, la città siamo pronti, la colazione siamo pronti, la doccia è pronti, il cuore è pronti, tutto è ok ora prepariamo tutte queste cose, prepariamo tutto, prendiamo il Gopro con me e proviamo a cercare, siamo arrivati 15 minuti da qui è come un po' spazio, vicino al rivello, l'acqua e questo tipo di cose, nella città, e questo è tutto, vediamo a te dopo questo è, in caso che vuoi passare, questo è l'adressa qui dove abbiamo stato, è un ottimo hotel, probabilmente abbiamo fatto quasi per free quindi continuiamo a continuare con la seconda parte di questo video ragazzi, ora andiamo avanti, continuiamo con la seconda parte del video, ora imbaracchiamo tutto qua e se non andiamo a le cascate qua vicino, se non andiamo a fare una passeggiata ci vediamo dopo, mi raccomando iscrivetevi al canale, commentate, condividete facebook, tiktok, instagram e trickballak ok check out fatto, ora faccio una panoramica al volo, questo era l'hotel e ora andiamo a fare una panoramica al canale, qui siamo vicino alla città, siamo arrivati a montagne questo è l'hotel, questo è l'ho più famosa, l'ho aperto nel 1921 questo è il stadio, il sky jumping, da qui, questo è l'ho famosa e questo è tutto il stadio, dove le persone possono sentire, è come arena ora andiamo in questa direzione andiamo a vedere un po' qui da com'è piotta quella let's wait someone coming down from the kill, eh? vediamo se qualcuno si ammazza riparte senti che tacchettate vabbè qua ci lasciamo ai spalle le skin e ora andiamo in questa direzione qui abbiamo il river, è un po' freddo credo è questo 20 minuti ammazza che freddo le mortage qui abbiamo un hotel di più tipico hotel, l'accommodazione via Polso restaurant tutto surgelato qui l'accommodazione dovremmo pagare credo ciò qui vediamo abbiamo anche un tifo informazione ma puoi cercare tutte le sceglie disponibili vicino qui puoi cercare oggi sta a meno 5.8 live cam che fanno tutta roba qui la via la l'avent tutto il 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 ora chiamo per il 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 passaport il 2 se sei vaccinato o non il ticc 6 euro per person e and you can walk until the main point finisce devo trovo la capoccia è frozen ma il non niente ok qui sono i bagni super luce verde quindi entriamo tiè guarda che spettacolo organizzazione toppa qui c'è l'acqua il dry saglie e trick ball pallacca vabbè una marpagna acqua gelata sapone portaria galla Siamo in un'altra scala, qui mi ho toccato il bravo, io ero qui a to spend the ticket, la rimettiamo sulla maschera, un'altra volta l'abbiamo fatta, l'abbiamo entrava. Siamo in un'altra scala, mamma mia, guarda, il paese è meraviglioso, ma è molto piccolo, non so, guarda, guarda. Ma è molto difficile di blocciare, perché con il globo, con il handphone, con il maschera, with the hats with the jacket con maracanà tutta sta roba a maschera il coscio il cappello i guanti it's very difficult mamma mia che freddo so you have to be careful with the head you know that's an a trampata the guy is too cold for the block i will stop here for a while because it's too cold my hands is freezing so we'll see the motocross so look at that now we went out from here this is with the ticket there is the pass and we are outside in this area now finally we can open the maschera now we go walk by here and we stop there to take some sun because it's very very cold we start with the water here come here I see all the search here this is the quarzo this is the granite forse this is the ambipolite this is the basalite this is the ambipolite rock vabbè andiamo avanti, ora andiamo qua, bisogna il sole abbiamo fatto ragazzi, qua c'è un po' di sole, c'è un po' di sole ora è molto, molto meglio, prima c'era un po' di sole dentro la montagna, in mente ora siamo matti mamma mia che freddo quindi abbiamo lavorato circa 25 minuti dentro del tunnel nella montagna, il place è stato meraviglioso è un po' di sole, è un po' di sole specialmente ora in winter perché ci sono molti blocchi di acqua che possono fallire, è molto pericoloso ma è ok abbiamo fatto il rischio ora abbiamo calcio qui un po' di sole abbiamo ancora un po' di sole lavoriamo un po' di sole è già circa 12 o'clock e poi siamo tornati fino a un ora ci vediamo una scallata che faceva un freddo ci vediamo una bella scallata e dopo ce ne torniamo giù a valle ci vediamo dopo, ciao 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 e ora siamo stiamo tornando per circa 10 minuti credo che siamo fuori da questo quindi questo è il ultimo so abbiamo finito il nostro tour siamo fuori dalla montagna è stata un'ottima esperienza non ho mai visto qualcosa come questo vedo che questo video è stato un po' troppo lungo ma spero che vi piace quindi non lo dimenticata non lo dimenticati di sostenere e che non lo dimenticate mi piace bitare comment share follow me facebook instagram tic toc e via spero di aggiungere un nuovo video se non avete il video precedente quando avete arrivato la mattina ho messo qui alzardo so you can check and stay tuned because I find a new job so stay bello impappato. Se moriate alla fine del video mettete un bel commento, like, condividete iscrivetevi al canale e accendete la campanellona. Il video è stato bello lungo però spero che vi sia piaciuto quindi niente state belli impappati perché si cambia lavoro ci vediamo al prossimo video passo e chiudo qui dei cascaterni a gara ciao